Dance Battle! Tutti! Dance Battle, prego! Io ci ho certificato veramente, io pure, io che ho ginocchio. Allora, che esibite uno alla volta e poi alla fine della vostra esibizione potrete indicare il VIP da sfidare. Guardate tutti, ah, ecco qua. Ho tutti di qua, ho tutti di là. Siete pronti? Un attimo che Valeria sta facendo il pantalone hipster. Sta facendo il risvoltino primavera. Questa non è male, vi farei un applauso perché nel frontino primavera non è male. Mi pesa dirlo, ma non è male, mi pesa dirlo. 3, 2, 1, musica! Vai, vai! Allora! 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 Allora!